Blitz della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza questa mattina presso gli uffici del Comune di Pesaro e quelli dell'Assessorato alla Cultura a Palazzo Mosca, a seguito delle indagini in corso per gli affidamenti fatti dalla precedente amministrazione nei confronti delle associazioni Opera Maestra e Stella Polare. Le forze dell'ordine si sono recate in comune da Franco Arceci, ex capo di gabinetto del sindaco Ricci, in quanto persona informata dei fatti e non in quanto indagato, come lo stesso Arceci precisa. Il sindaco di Pesaro Andrea Biancani ha dunque voluto commentare l'accaduto, esprimendo la sua fiducia presso la magistratura ed il massimo sostegno per la trasparenza da parte del Comune. Sta succedendo quello che era prevedibile, sapevamo che la Procura aveva avviato un'indagine, quindi quando si avvia un'indagine è normale che ci siano i controlli direttamente anche negli uffici che sono interessati. Io quello che rimarco è ovviamente, come ho sempre detto, la massima disponibilità e la massima apertura a mettere a disposizione tutti quelli che sono i documenti che sono a nostra disposizione. Mi auguro che l'indagine riesca a definire nei tempi più rapidi possibili quello che è avvenuto e quello che non è avvenuto, in maniera tale da poter ripartire con maggiore serenità. Non nascondo che questa situazione è una situazione comunque della quale avrei fatto volentieri a meno, è una situazione pesante. Il sindaco Biancani poi chiarisce il ruolo di Arceci e il rapporto di quest'ultimo con il Comune di Pesaro, ora che l'incarico da mandato di Ricci risulta terminato. Stiamo definendo una sorta di collaborazione perché Franca Arceci comunque rappresenta, ha una storia all'interno dell'amministrazione comunale e ho chiesto a Franco Arceci di come dire nel tempo se può in qualche modo sostenermi anche su determinate, anche per raccontarmi quelle che sono alcune scelte che sono state fatte, il perché sono state fatte alcune scelte, quindi Franco Arceci al momento non ha un rapporto definito con il Comune. Diciamo che Franco Arceci, sendo stato tantissimi anni all'interno di questa struttura, oggi ogni tanto capita e si confronta con il sottoscritto per quelle che sono alcune scelte che magari vanno portate avanti. Il centrodestra pesarese, appreso del blitz da parte delle forze dell'ordine, ha subito espresso il suo parere tramite un comunicato diffuso a mezzo stampa. Alcuni esponenti del Consiglio Comunale inoltre, come Bartolomei, Marchionni e Boresta, si sono recati in comune al momento della blitz, esprimendo il loro parere a riguardo. Questo chiaramente conferma che tutte le criticità fino ad oggi rilevate da tutto il centrodestra ed evidenziate dall'esame dei documenti e dall'approfondimento effettuato anche in sede di commissione controllo atti e garanzia e anche in sede di commissione partecipate, hanno avuto riscontro anche con l'intervento della Guardia di Finanza e della squadra mobile. Quindi questo significa che le nostre sicuramente erano criticità ed erano dubbi e perplessità assolutamente fondate che oggi trovano questo importante riscontro. Noi siamo assolutamente fiduciosi nell'operato della Polizia di Stato, nell'operato degli organi della magistratura e quindi ci auguriamo che questo sia proprio un passo importante per arrivare a fare chiarezza e a dare la risposta a tutti i cittadini su questi affidamenti del Comune di Pesaro.